Cari amiche, cari amici, siamo arrivati al termine di questo nostro cammino iniziato una settimana fa. Quando alla mia destra c'era il numero meno 7, oggi alla mia destra c'è meno 1, che vuol dire che manca un giorno alla inaugurazione. E quindi domani si inaugura, si inaugura questo nuovo centro commerciale, questo nuovo punto vendita del gruppo Potenti ad Asti, in corso Torino al numero 72 nell'immobile che nel passato era occupato dalla PAM che ora si è spostata di poche centinaia di metri. Veniamo a questa importante inaugurazione, abbiamo detto punto vendita del gruppo Potenti, quindi della organizzazione Bonus Network. La Bonus Network, oltre ad avere anche una televisione satellitare dove molti di voi in questo momento mi stanno guardando, molti canali di internet, varie opzioni dove qualcuno mi sta sicuramente anche vedendo, ma soprattutto ha una cosa molto importante, parliamo della Bonus Card. Quindi coloro che a partire da domani potranno venire in questo nuovo centro commerciale, in questo nuovo punto vendita del gruppo Potenti ad Asti, chiederanno immediatamente la Bonus Card, perché con quella carta avrete subito dei buoni sconto, avrete un trattamento veramente particolare. È una carta gratuita, quindi richiedetela subito perché vi dà solo dei grandi vantaggi. Parliamo un attimo dell'inaugurazione di questo nuovo punto vendita, un punto vendita che ospita all'interno tre marchi importanti. Uno è Bricoio, che ovviamente mi auguro tutti quanti conoscete che è al top per quanto concerne il bricolage, il fai da te e quant'altro. L'altro è Casa e Casa. È un marchio importante, è un marchio che rappresenta una gamma direi molto ampia, la casa. Dentro la casa ci siamo anche noi, quindi diciamo che quel marchio racchiude tutti i prodotti che servono a noi e alla casa. Quindi dall'igiene personale, dal sapone per il bucato, insomma c'è veramente tutto, fino anche ai giocattoli e cartoleria. Quindi ecco un marchio importante che abbraccia tutto il mondo della casa, compreso chi ci abita all'interno. E andiamo avanti, l'altro marchio importante è l'Isola dei Tesori. Qui veramente è una cosa straordinaria perché l'Isola dei Tesori pensa ai vostri tesori, quindi ai vostri amici animali, dai gatti, cani, roditori, uccelli, pesci, insomma chi più ne ha più ne metta. E non solo l'alimentazione, non è insomma il classico banco dove si trova qualcosa per dare da mangiare ai vostri amici, ma tutt'altro. Qui c'è una gamma molto varia, molto vasta, i prezzi sono molto bassi, anche alimentazione un po' particolare, oggetti antistress e quant'altro. Insomma ecco io mi auguro che sarete in molti a toccare con mano, a visitare questo negozio all'interno di questo nuovo centro commerciale, di questo nuovo punto vendita del gruppo potente Adasti in Corso Torino al numero 72, perché sono sicuro che rimarrete tutti positivamente sorpresi. Allora abbiamo detto manca un giorno, domani si inaugura, non resta altro che invitarvi tutti alla inaugurazione che avverrà domani mattina alle 9.30, quindi io dico domani mattina, intendo giovedì 4 ottobre ad Asti, Corso Torino al numero 72 nell'immobile che era occupato dal PAM. Quindi vi invito tutti quanti, grazie della vostra cortesa attenzione, grazie a coloro che magari tutti i giorni hanno ascoltato la nostra televisione, bonus tv sulla piattaforma Sky Canale 9.50 o anche in altri modi come Facebook o quant'altro. Quindi grazie a chi ci ha seguito questo nostro cammino che è durato solo sette giorni, ma è stato divertente, perché quando si vede l'arrivo ci si avvicina sempre di più fino a che si arriva all'arrivo. Eccoci arrivati, domani è punto di partenza per quanto riguarda questo nuovo centro commerciale Adasti. Ve lo ricordo, Corso Torino numero 72, vi aspettiamo tante offerte, non l'ho detto ma ve lo dico proprio in chiusura. Guardate che all'interno ci sono molti prodotti sotto costo, quindi quando entrate ritirate il volantino perché sarà una vera e propria guida al risparmio. Vi aspettiamo, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie.